I tempi dovranno essere rapidi, prima di tutto per una questione di sicurezza, ma per lo sblocco del cantiere della ricostruzione della chiesa di San Marco Evangelista in centro storico all'Aquila, a poca distanza da Piazza Duomo, purtroppo si dovrà aspettare la fine del processo giudiziario che vede contrapposti la parrocchia e il comune dell'Aquila. Un cantiere bloccato è interdetto alle imprese idili con un'ordinanza del settore comunale della ricostruzione risalente al 28 gennaio, con la quale il comune ha sospeso tutte le attività di cantiere adiacenti alla chiesa. Dopo dieci anni dal terremoto, i già ingenti danni ricevuti dalle scosse e aggravati dai terremoti del 2016 e del 2017 preoccupano non poco. La chiesa presenta diverse criticità, le navate centrali e le torri campanari rischiano di crollare. A riportare l'attenzione sul caso è stata la lettera anonima di un operaio della ricostruzione che chiede quale sia lo stato reale della chiesa e mette in guardia sul pericolo che costituisce per l'incolumità pubblica sollevando anche un altro problema, quello dell'impossibilità di lavorare con risvolti anche sui pagamenti dei salari. La vicenda rientra nella questione più ampia della ricostruzione di quegli aggregati che vedono insieme beni culturali e chiese e parti private di proprietà della curia. Dopo anni di dubbi sulla natura pubblico privata degli interventi da seguire in questi casi, è intervenuta la legge 125 del 2015 che individua la competenza della ricostruzione delle chiese negli uffici periferici del MIBAC. D'altra parte fondi pubblici, ricostruzione pubblica. Un passaggio che non è piaciuto al parroco della chiesa di San Marco, Don Daniele Pinton, che ha deciso di portare il comune in tribunale. Ora però occorre fare presto sia per mettere in sicurezza quello che è un vero e proprio gioiello architettonico, sia per l'incolumità pubblica. A spiegare la situazione è il segretario regionale ai beni culturali Stefano D'Amico. I lavori di messa in sicurezza dell'opera sono ripresi ieri con la revisione dei puntellamenti esistenti e la verifica dei campanili, spiega D'Amico, ma si è dovuto attendere un'ordinanza con cui il sindaco chiede di procedere con urgenza a tutte le opere di messa in sicurezza demandando nell'esecuzione al segretariato. Si tratta di un cantiere, spiega il segretario D'Amico, avviato nel 2016 e poi sospeso per mancanza di fondi. Ci vogliono infatti 300 mila euro e ne mancano all'appello oltre la metà. Carenza di fondi che si sta cercando disperatamente di superare raschiando il fondo del barile.